Ciao a tutti da Mark Lanzetta, Rileight Orchestra, volevo ricordarvi il grande appuntamento, ottava edizione, Shorting Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio che si svolgerà ad Augusta. Volevo salutare tutti gli shortini, partecipanti, i miei amici siciliani, ma soprattutto invitare i giovani a partecipare a questo concorso per l'importanza dell'arte e della cultura, non solo in Italia ma anche nel mondo, come d'altronde la musica. Ciao a tutti, grazie.